Sette giorni per prendersi il Foggia e il tempo dato da canonico a quei gruppi fondi e cordate locali e non che almeno a parole avrebbero l'intenzione di rilevare il club. Gruppi fondi e cordate a cui il presidente del Foggia ha dato l'out-out ieri nel corpo di una lunga nota divisa in punti, ben 12, in cui ha elencato e reso noti tutti i suoi pensieri e tutta la sua delusione nei confronti di chi gli addebita l'interruzione del matrimonio con Zeman e lo invita a smontare le tende. Canonico e sfibrato dai malumori della piazza, chi lo contesta, quelli che lui definisce e leoni da tastiera, dice testualmente non voglio essere un bersaglio, un nemico o un ostacolo per il cammino che il Foggia merita. Se c'è chi può svolgere il mio compito meglio di me ed ha adeguate disponibilità economiche, le mie quote sono a disposizione. Si faccia avanti ma presto, entro sette giorni, perché non c'è tempo da perdere e c'è molto lavoro da fare. Non intendo guadagnare o speculare sulla cessione, continua Canonico, chiederò solo i soldi spesi in questa stagione. Messaggio indirizzato a potenziali investitori ma anche alla sociapintus con la quale la diatriba si è trasformata in battaglia nelle aule dei tribunali. Un messaggio, quello di Nicola Canonico, che mira a tastare il polso per intenderci. Se ci siete, venite allo scoperto. Diversamente, lasciatemi lavorare in pace. E' questo il senso del Canonico pensiero. Lo stesso presidente del Foggia non ha mancato poi di punzecchiare Zeman e Pavone. Lo ha fatto sciorinando i numeri. Lo scorso anno il Foggia è giunto nono, venendo eliminato al secondo turno dei play-off. Questa stagione all'insegna di Zeman si è chiusa al settimo posto con due turni di spareggi superati e l'eliminazione di Chiavari. La differenza, sottolinea Canonico, è che il Foggia di Felle che è Pintus spese un milione e duecentomila euro. Quello mio, due milioni e settecentomila, ovvero oltre il doppio. E senza trovare nuovi Baiano, Barone e Signori, continua ancora Canonico, che insomma qualche sassolino nelle scarpe se lo toglie nei confronti di Zeman. Che pure, dice il presidente del Foggia, avrei ancora voluto sulla panchina rossonera. Ho fatto di tutto per convincerlo a rimanere, ribadisce. Da oggi in poi, insomma, chi davvero intende prendere il Foggia dovrà farsi avanti. Avrà tempo fino a domenica. Ed è verosimile immaginare che fino a quella data non partirà nemmeno la programmazione. Tradotto per conoscere chi erediterà la panchina lasciata vuota da Zeman, ci sarà ancora da attendere.